Chi è omogeneo a voi? I fratelli dello spazio, voci dall'infinito, attraverso Wanda, Albano, 30 giugno 1998, a cura di VB, Civiltà e Nu. Tante sono le forze che in questo momento si avvicinano alla Terra, ma bisogna che sappiate distinguere chi è omogeneo a voi. Non potete sentirle tutte perché vi porterebbero scompenso e vi lascerebbero sconcertati per il loro modo di esprimersi. L'amore come lo concepite voi, che fatica state facendo per comprenderlo, è molto diverso da come lo viviamo e lo esprimiamo quando siamo sul nostro mondo. Per noi è una forza che non usiamo per imporre e che sentiamo come una nostra componente. Siamo costituiti di questa forza che è senz'altro diversa dalla vostra. È difficile da spiegare, ma siamo diversi anche nel modo di esistere. Continua. Grazie. 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 Grazie.